Gli effetti su territori, lavoratori, imprese e cittadini dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. È stato questo il tema che ha animato il dibattito della tavola rotonda, promossa nei giorni scorsi a Pescara dalle sigle datoriali e sindacali abruzzesi. Il disegno di legge, a firma del leghista Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie del governo Meloni, ha riportato al centro del dibattito politico un tema che deriva dalla riforma del 2001 del titolo V della Costituzione, secondo cui le regioni hanno la facoltà di chiedere allo Stato la competenza esclusiva su 23 materie di politiche pubbliche. La proposta però divide l'opinione pubblica e la politica, preoccupate per il rischio di un'ulteriore spaccatura tra nord e sud, che aumenterebbe il divario tra le regioni italiane. A parlarne nel corso della tavola rotonda che si è svolta all'auditorium Petruzzi di Pescara, sono stati Antonio Zennaro e Michele Fina. Antonio Zennaro, vice segretario regionale della Lega, autonomia differenziata, favorevoli e contrarie, a che punto siamo anche nel dibattito politico in regione? Ma è iniziato adesso il percorso anche per spiegare sui territori un'opportunità, un'opportunità per l'Abruzzo di prendere le decisioni di più sul territorio e magari meno nei palazzi romani. Quindi utile questo appuntamento anche per spiegare a sindacati e categorie una nuova opportunità. Si dice che magari alcune regioni potrebbero rimanere indietro e c'è questo timore anche per la nostra regione, l'Abruzzo. Assolutamente no, perché chi non richiede alcune materie, alcuni ambiti, non gli viene tolto niente e non gli vengono tolte le risorse. Quindi su questo c'è assolutamente la garanzia di non perdere quello che si ha. Michele Fina, senatore del Partito Democratico, autonomia differenziata, cosa cambierebbe per l'Abruzzo? È una secessione di fatto del Paese, un progetto, quello Calderoli, quello della Liga, che tenderà a dividere il Paese. Noi dobbiamo capire esattamente, punto per punto, sanità, trasporti, politiche pubbliche, che cosa accadrà all'Abruzzo con l'approvazione di questo progetto. Questo è un Paese diviso in cui le diseguaglianze sono aumentate, sono aumentate tra nord e sud, sono aumentate per le aree interne, sono aumentate dentro la società. E questo progetto invece che aiutare a ridurre le diseguaglianze, le aumenta. Perché di fatto l'obiettivo vero, che noi conosciamo ormai da anni, è quella della secessione fiscale, cioè di mantenere le risorse fiscali del nord al nord e fare in modo che continui l'emigrazione, che è già un fenomeno che riguarda il sud Italia, compreso l'Abruzzo, verso il nord o verso l'estero, di un territorio che tenderà sempre più a impoverirsi. Quindi bisogna abbattersi contro questo progetto e mettere in campo invece un grande progetto di solidarietà nazionale, e semmai di costruzione di politiche nazionali ed europee che tendano a farci competere nel mondo che c'è oggi. Perché è anche un progetto, alla fine quello dell'autonomia differenziata, che guarda indietro e non avanti.